Come avviene alle scuole medie, anche alle scuole superiori prediligiamo delle metodologie e didattiche innovative, come quella della Flip Classroom o classe capovolta. La mia esperienza scolastica alle scuole Manzoni la sto vivendo molto bene, ho conosciuto tante belle persone, tanti veri amici e anche con i professori ho strutturato un bel rapporto anche con la struttura che è la scuola e tutto l'insieme. Durante il mio percorso di studi alle scuole Manzoni sono riuscita a instaurare un bel rapporto sia con i professori che con gli studenti, infatti i professori durante l'anno cercano sempre di aiutarci e di capire il modo migliore per riuscire a spiegarci le varie materie. Nelle discipline scientifiche, e non solo, questo approccio prevede uno studio in completa autonomia attraverso dei materiali didattici come dei video, dei siti scientifici o dei documenti forniti ogni volta dal docente. Alle scuole Manzoni i professori preferiscono concentrarsi di più sulla qualità di quello che studiamo piuttosto che sulla quantità. Qui alle scuole Manzoni i professori preferiscono concentrarsi per insegnarci due uomini metodi di studio che ci potranno essere più utili per studiare all'università. In classe si procede poi ad un confronto con i compagni e ad un'analisi più approfondita del materiale proposto, utilizzando degli strumenti pratici ed interattivi. Utilizziamo dei modelli matematici creati attraverso dei software, come ad esempio l'applicazione GeoGebra, per consentire allo studente di dedurre attraverso un'esperienza grafica e pratica i concetti matematici più teorici. Le competenze che ho acquisito negli anni a scuole Manzoni sono state molto buone e sicuramente mi aiuteranno in quello che sarà il mio futuro, che sia lavorativo o da studente. Lo scopo è quello di evolvere l'esperienza didattica dello studente, il quale costruisce con le proprie specificità le competenze scientifiche della matematica, utilizzando in questo modo una didattica laboratoriale ed inclusiva. Durante il percorso di studio alle scuole Manzoni il primo obiettivo della scuola è quello di insegnarci come rompere gli schemi. I punti di forza del corso che sto frequentando qui a scuola Manzoni sono principalmente i professori, sono molto bravi e abili in quello che fanno e mi hanno anche aiutato molto in questi anni, sono sempre disponibili a parlare con i studenti e quindi ad aiutarci nel nostro percorso. Infine, lavoriamo molto sull'interdisciplinarietà tra le materie, in questo senso la scuola porta avanti un progetto che coinvolge gli insegnanti delle materie scientifiche e delle materie letterarie. Questo progetto è pensato per migliorare le competenze specifiche degli studenti nell'analisi del testo e nella comprensione dei problemi di matematica e di fisica, con lo scopo di facilitarne nella successiva risoluzione.